Vi conoscete da tanto? È successo tutto molto in fretta. Potrei essere tua madre. Ma non lo sei. E lì ho un truffatore. E nostra madre non se ne vuole rendere conto. Che cosa so io di te? Chi sei? Da dove vieni? E allora sono venuto qui per comprare una barca, andarmene lontano. E invece l'ho incontrato a te. Io sto solamente cercando di proteggerti. Certo, perché secondo te io non sarei in grado di badare a me stessa, giusto? Ma tu chi cazzo sei? Lascia stare mia madre. Ti sta usando! E se fosse stato l'inverso? Lui sessantenne e lei trentenne. Quello è pericoloso. Puoi gestare con te? Ma ti do 12 ore per sparire. Io non mi sono mai sentita così viva come ora. Comunque se non c'è un colpo di scena in questa famiglia non siamo felici. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti